Complimenti Sono riuscito ad incularci un punto Bello, bellissimo, veramente bellissimo La più a ride, la più a ride perché è giusto che sia così Perché se te c'è in cazzi è peggio, è peggio Metterò comunque sfogo nel titolo ovviamente Devo comunque, diciamo, guadagnarci da questa ladrata che c'è stata fatta, no? Quindi mi pare il minimo Mi pare veramente il minimo Anzi mi sposto, non mi piace molto questa location Vado in camera mia Così mi trovo più a mio agio in camera, no? Quindi Senza parole, oh Senza parole Mettiamoci così Che schifo è stato? Che schifo è stato? 20% e batti Mi si sta pure a scaricare Che schifo è stato? Che schifo è stato? Partita tendenzialmente difensivista nel primo tempo Con il Cagliari che Si può dire che non ci ha avuto occasioni Lo si può dire tranquillamente Cagliari che nel primo tempo non ha avuto occasioni Abbiamo fatto schifo perché non abbiamo fatto praticamente niente nel primo tempo Nel secondo se siamo sbagliati Cioè se siamo svegliati scusate E siamo riusciti a trovare il gol con Paoletti Tra l'altro gol bellissimo Poi Craglio fa un miracolo che è qualcosa di Veramente spettacolare Arriva il pareggio Del Napoli Su colpo di testa di Mertens Che ancora devo capire Che cazzo c'è stato a fare l'Immertens Tranquillo A colpi di testa Però quelli sono dettagli E poi arriva questo rigore Rigore A mio modo di vedere Inesistente Perché si Il contatto Qua c'è E quello non si discute Non si discute Non è che sto a dire che non c'era Non c'era il rigore Perché non c'era il rigore? Perché quello era fuori Non era dentro Era fuori Con quel video Ai miei occhi Io non ho visto un'eventuale Rigore per il Napoli Ho visto un'eventuale punizione Al limite Se poi il Napoli Segnava dalla punizione Dal limite Finiva 2-1 E tutti a casa Però perde così Mi ce roda il culo Var Var Mio caro Var Tu con quel video Non mi hai dimostrato Che cacciatore Ha preso la palla Di mano in area Di braccio in area Non me l'hai dimostrato Però ci hai dato il rigore contro Come cazzo è possibile? Mi vuoi dimostrare Che l'ha presa Con questa parte del corpo Con il gomito Con l'avambraccio Qua Come cazzo si chiama? No questo è l'ambra Si In area Fai come per Come fai per il fuorigiochino Hai visto come fai per il fuorigiochino Che metti tutte le lineette Tratteggiate Rosse Blu No? Per far capire Che magari una parte del corpo Sta in fuorigioco Giusto? Oh Vedo che ci sei arrivato Potevi fare la stessa cosa Adesso Eh? Mio caro Var Mettevi le lineettine Tutte carine Tutte quelle rosse Blu Verdi Di quello Di quel colore che vuoi Di qualsiasi colore Mettevi tutte le lineettine E mi dimostravi Che questa parte del corpo Toccava perlomeno la riga Eh? Perché dal video che mi hai fatto vedere tu Il braccio di cacciatore Non sta manco per il cazzo Sulla riga Eh? Caravar Ti scrivo Così ti mando a fanculo un po' Eh? Ci vuole tanto? Ma Vabbè L'abbiamo perso col Napoli Ce sta Un altro espulso a partita Ma sì Ma che cazzo ce frega Ma tanto il decimo posto A che lo puntiamo a fare Noi ma che Tralasciando sta cosa del VAR Che comunque non me va giù Ma tralasciando quel VAR Io Maran te voglio bene Te voglio bene Ma Despotov Do cazzo sta? Dov'è Despotov? In una partita in cui la squadra avversaria C'ha come difensori centrali Quell'armadio attreante De Koulibaly E quell'armadio Di Albiol Tu meschiari due prime punte fisiche Che immagino pretendi facciano gol di testa Con Koulibaly e Albiol come centrali Vabbè Tralasciando questo Stai sull'uno a uno Te volendo puoi vince Perché volendo puoi vince con contropiede Perché se imbecchi l'azione giusta puoi vincere E tu che fai? Al posto di Faintra Despotov Fai entrare Pisacane Per Pavoletti C'è togli un attaccante Metti un difessore E passi alla difesa a 5 Che senso c'ha? Che tanto se devi perdere con il Napoli Tu perdi Se devi perdere con il Napoli Tu perdi Quindi che cazzo passi alla difesa a 5? Ma butta dentro gente Manda persone in attacco Che se arriva un'azione buona A te rischi pure di fare gol Che cazzo ne metti a fare in difesa a 5? A che pro? L'unica volta in cui non dovevi cambi a modulo Hai fatto una cappellata in mane Una cappellata in mane Poi stavamo giocati senza attaccanti Senza attaccanti Così Che tanto ormai E' andato a puttane tutto Quindi Fa ridere Fa veramente ridere Mi faranno? Devo essere sincero Mi faranno Posso levare questo? Ok Mi faranno ancora più ridere i napoletani Che se verranno qua sotto a commentarmi Scriveranno Cotto Seriamente avete un livello di Una considerazione così bassa Di voi stessi Che venite a godere per una vittoria contro il Cagliari Non è per denigrare la mia squadra Ma perché Sai L'altro anno avete battuto la Juve Avete fatto i fuochi d'artificio Adesso scrive Cotto Per una partita vinta contro il Cagliari Mi pare un po' incoerente C'è degli standard un po' bassi Se lo fate E che volevo fa' E' andata così E' andata così Detto questo Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti Cosa ne pensate E detto questo Noi ci becchiamo In un prossimo video Bella Ciao